È patetico che per farmi perdonare per la mia incostanza e i video che non ho caricato negli ultimi giorni che io mi metta a mangiare un cibo strano davanti alla telecamera da Reykjavik in Islanda ma siamo qui, vi ho detto che avrei usato spazi attorcigliati in modo un pochino più elastico quindi non venite a lamentarvi con me se oggi ci troviamo per assaggiare la Carl. Questo, e l'avrete certamente visto nei video su YouTube, è squalo fermentato un tipo di squalo particolarmente velenoso che quindi deve restare diversi mesi a fermentare poi essicarsi, a rilasciare l'ammoniaca e si utilizza un batterio simile a quello che poi usiamo nel produrre lo stilton, il gorgonzola Ci sono tante storie attorno a questo cibo, è molto vichingo nell'atmosfera ma viene prodotto ancora oggi a ovest, Reykjavik è nell'ovest, nel sud-ovest dell'Islanda è uno squalo molto velenoso se mangiato così, quindi ti ammazza se lo mangi senza prima fargli attraversare tutti i processi necessari ma questo mi si dice sia abbastanza edibile, sano, seppur particolarmente puzzolente io sono uno a cui i formaggi puzzolenti piacciono e quindi proviamo Allora, non l'ho... Ok, mi si era detto, mi si era detto che somiglia al bagno dell'autogrill però non credevo fosse una descrizione accurata così tanto Ora, prendo un pezzo e ve lo faccio vedere è molto... è molto spugnoso non inquadrarmi la faccia è molto spugnoso adesso non so se le mie dita siano a fuoco lo vedete? Ha un odore di ammoniaca fortissimo e dico ammoniaca per intenderci, eh, spero... spero che ci capiamo a questo punto non mi resta che assaggiarlo e punirmi in questo modo per la latitanza da YouTube e che Dio me la mandi buona Per ora... non è così... Ok, ve lo descrivo All'inizio... all'inizio... ricorda la ringa no, quella che si mangia anche da queste parti ne ho mangiato una meravigliosa a pranzo quella che ti mettono cruda sul panino quindi ha un sapore pescioso un po' fibroso e poi ti sale al naso esattamente come un formaggio molto stagionato come lo stilton o come il gorgonzola e senti questo secondo colpo qui che è abbastanza intenso mi merito un secondo pezzetto per provare il sadismo di questa operazione secondo e ultimo direi ok non è una tragedia non è una tragedia se vi piace molto il pesce in particolare il pesce che sa di pesce quindi i crudi magari i crudi di gambero o il crudo di calamaro queste cose qui e vi piacciono i formaggi particolarmente stagionati il gorgonzola sentite che mi salta un po' la voce o ancora di più lo stilton come dicevamo dovete semplicemente immaginare di metterli insieme e mangiarli adesso io ho 100 grammi che consumerò pian piano non si butta via assolutamente niente sarebbe particolarmente irrispettoso sia nei confronti della creatura che figura in questo video sia della tradizione di questo luogo quindi però lo mangerò off camera per il momento vi ringrazio di aver partecipato a questa pagliacciata e vi informo che in realtà io qui sono in Islanda per registrare un'intervista un'intervista a un ricercatore straordinario che si è occupato tutta la vita di mitologia norrena e che entrerà in un progetto simile a quello di Dishbrain il video che ho caricato sul canale inglese Actually qualche mese fa poi ve lo lascio nel primo commento e in descrizione ma su scala molto 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 più grande si parla di cosmologia si parla di mitologia si parla di inizio del tempo sono temi che ho trattato in un video così un po' sperimentale di recente ma che in realtà è saltato fuori da in questo caso mi riferisco al video dal lavoro che ho che ho svolto in preparazione di questo progetto un po' più lungo quindi se quel video vi è interessato e volete vedere qualcosa di molto più studiato molto più lavorato con una produzione in qualche modo a cui ho dedicato più attenzione ecco diciamolo così ci vediamo su Actually tra un paio di mesi sarà finito al 100% all'inizio di agosto quindi non manca troppo tempo nel frattempo ci rivediamo qui su spazi attorcigliati e grazie di avermi seguito grazie a tutti